Anna, ti alzi? Buongiorno, devi andare a scuola? Oggi, mamma, oggi è domenica... No, Anna, oggi non è domenica, oggi è un giornato a scuola, forza, alzati! Non capisco pare che i bambini ci provano tutte le volte, tutti i giorni! Oh, va bene, allora mi alzo... Ma ho bisogno di un altro t-shirt... Eh? Cosa c'è qua sulla t-shirt? L'avevo già messa? Pensavo di averla presa dall'armadio, ma... Mamma, mamma, ho un altro t-shirt che posso portare ad andare a scuola? No, Anna, non ho fatto le tue cose... Oh, no, così non posso andare a scuola, mamma, no, è sporca, guarda! Ma... Anna, devi cercare di... Allora, provo a sistemare, ma... Oh, no, 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 quanto è imbarazzante! Con questo t-shirt non posso andare a... Se vuoi puoi prendere qualcosa da me, non so se può essere buono, ma... Oh, eh, ma certo, grazie mille per l'aiuto, eh! Mmm, fantastico! Oh, ok, volevo solo essere carina, mamma mia! Ci siamo alzate proprio col piede storto! Anna, non dimenticarti questo! Mmm, non ne ho bisogno, ciao! Oh, dai! Mmm, sì, c'è qualcosa che non va, no, no! Oh, oh, cosa sta facendo? Oh, buongiorno, ragazzi! Ehm, non so se è una cosa buona, ma la tua moglie è sporca, hai visto? Oh, sì, ho visto! Grazie che mi avrebbero ricordato, eh! Ehm, sì, scusa... Ah, sì, certo, 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 ah, no, insomma, non prendertelo, è sempre sporco, però non è mica una tragedia, no? Oh, Anna, mmm, ok, ma davvero, non volevo, ho fatto qualcosa di sbagliato! Anna, davvero, non puoi mica dare la colpa a tutti gli altri, sicuro ha ferito Philip questo! Mmm, sì, penso di sì, penso che ci sia rimasto davvero male, ma non devi scusarti! Oh, certo, non avete niente da dirmi, eh, a dopo! Mmm, non so perché, ma Anna ha reagito in modo un po'... Sembra che le dia molto fastidio, eh, però... Oh, no, cosa, non ti vergogni! Ma come, ti permetti? Oh, Tessa, mi vergogni di essere tua parente! Oh, non penso, non penso, guarda come sei conciata, cos'è quella una cicca! No, non siamo tutti così ricchi da potersi prendere 3.000 vestiti come te, no? Sì, è sporco, c'è una macchina, non ci posso fare niente! Oh, ma com'è possibile? Ehi, sorridi! Eh, no, mi dispiace, oggi non sono proprio di compagnia! Ai, 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 questo non è una buona cosa! Oh, oh, e quindi anche i bambini cominciano a fare così, ehm... Se vuole saperlo, ecco, sono in ritardo, ma non ha ancora suonato! Oh, pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma è così con tutti! Bene, bambini, ora che siamo tutti qui, possiamo iniziare! Good morning! Good morning, prof! Ah, puraggio, purtroppo non ho preparato niente, quindi oggi facciamo solo una discussione libera! Ok, posso proporre un tema? Mmm, sì, certo, ma ho in inglese! Oh, alright, this topic is clothes, and Hannah's clothes are dirty! Ehi, tessa, è utile, insomma, stai cercando, smettila! Philip, grazie, ma è mia cugina e non la sopporto davvero più! Ignorala, ok? Ok, come vuoi, ma come il tuo amico, insomma, dovrei proteggerti, lo sai, ma come vuoi! Ehi, Becky, ehi, cosa ne dici se oggi portiamo Anna in città così si distrae? Magari può comprarsi qualcosa di nuovo! Ah, sì, niente male come idea, penso che sì, potrebbe servirle qualcosa di nuovo, soprattutto dopo questi giorni! Ok, ok, allora guardo qui in internet! Va bene, Anna, allora vai da sola in città tipo 200 euro, ma per favore non prendere solo una cosa, ok? E prenderti un po' di maglie, un pantalone! Sì, mamma, ok! Ah, ok, bene, vai, sei grande abbastanza! Ok, voglio poi il resto? Sì! Oh, siete sicuri di poter inviare tutto così? Insomma, non hanno niente per noi, no? Per il nostro categoria io 10 euro! Nemmeno io sono così sicura, non ho così tanti soldi, ma... Portare non costano? Ah, non sono mai stato in un negozio così! Benvenuti nella moda, nel boutique di moda e eleganza! Non siete mai stati qui, vero? No, 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 siamo super curiosi, volevamo solo guardare, ha davvero un bel negozio! Come clienti così, ok! Wow, l'avete visto? È addirittura delle corone, sono d'oro? Wow! È un negozio per re! Ehi, no, no, non toccare la corona, l'ho appena sistemata, sì è oro! Ok, ok, wow, che negozio, non si può nemmeno ennogare niente, ma che noia! Ehi ragazzi, avete visto questi vestiti? Guardate! Wow, sono davvero belli, ma insomma, per tipo un ballo? Penso che di questi non abbiamo bisogno di parlare! Perché? Perché il modello per esempio costa 200 euro e gli altri più di 500! Cosa ha tutti quei soldi? Con quello si possono comprare tantissime cose! Qui solo un vestito così? Mi piace, ho 200 euro! Anna, cosa ci fai qui? Ah, ciao a te, è solo la stessa cosa che stai facendo tu? Fare un po' di shopping con i miei amici? Come dire che tu puoi permetterti qualcosa del genere? Non ci credo! Ah, sai che cosa dico? Lo prendo, 200, non ne ho di più! Oh, un'ottima idea! Davvero una qualità favolosa! Ma perché lo fa Anna questo vestito quando lo vuole mettere? Vuole solo far vedere a testa... Anna, puoi venire un attimo! Cosa c'è, Pia? Sto comprando il vestito! Anna, non lo devi fare, insomma! Questo vestito non ti serve! Non devi fare come tessa! Oh, ragazzi! Non ne mischiatevi, ok? Potete permettervi un vestito così? No! Ah, Tanna! Anche quando comprerò un vestito così non sarai comunque bella! È fantastico! Come sono io! Non cambia la persona con l'abito! Oh, ma guarda! Lo dice proprio la persona giusta! Non lo dici davvero? No, eh! Eh, sapete cosa vi dico? Avete ragione! Tessa, non mi interessa, ok? Ok, no, no, lo prendo! Grazie! Oh, oh, ok! Mi dispiace, ma... Qui non c'era niente da cercare, no?